Buona giornata amici da Massimo Fughetti, oggi è venerdì 19 agosto 2022, c'è una buona notizia, questa mattina almeno per i fanesi, questa notte ha piovuto, ebbene è una notizia perché dopo tanti giorni di siccità veramente tutti noi avevamo bisogno come la campagna, come tante altre cose, avevano bisogno di acqua, quindi l'acqua un pochino è arrivata, il cielo è nuvoloso e lo vedremo poi con le previsioni del tempo. Intanto cominciamo con l'almanacco per vedere il santo del giorno e oggi si festeggia San Giovanni Eudes, nato a Riine, Normandia, un piccolo paesino della Normandia nel 1601, fu un grande predicatore San Giovanni, gesuita, si dedicò alle missioni popolari e alla cura degli appestati, fondò la congregazione di Gesù e Maria con una particolare devozione dei Sacri Cuori, fu dichiarato santo da Papa Pio XI nel 1925. Ed ora diamo un'occhiata veramente alle previsioni del tempo perché vediamo che delle nuvolette si stanno spargendo su tutto il territorio regionale, eccole, vediamo qui si alterna ovviamente un tempo così perturbato con il sole, c'è una marcata instabilità con rovesci e temporali frequenti. Attenzione dunque alle raffiche di vento dovute ai temporali, c'è un calo termico invece delle punte di 35-33 gradi che abbiamo vissuto, che abbiamo sopportato nei giorni scorsi, ora siamo tra i 21 e i 26 gradi, una temperatura più sopportabile. I venti sulle coste espireranno da una direzione da ovest e nord-ovest, mentre nell'interno da una direzione debole di ovest e sud-ovest e le temperature sono in calo. Apriamo oggi il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano, dove vediamo che l'apertura è simile anche quella del resto del Carlino, perché ieri c'è stata una dichiarazione importante, quella del preside del liceo Nolfi, Samuele Giombi. Samuele Giombi ha notato che nel Pincio si radunano dei giovani con degli atteggiamenti particolari. Ebbene al Pincio adolescenti fuori controllo, intitola oggi il Corriere Adriatico, hanno comportamenti da monitorare secondo il preside. Il preside Giombi rilancia l'allarme, occorrono maggiori controlli ma anche interventi più complessi, perché veramente nessuno ha la ricetta giusta per così bonificare questo fenomeno. Vedo sempre più spesso al Pincio gruppo di adolescenti, ragazzi e ragazze, apparentemente in prevalenza stranieri ma anche italiani, in atteggiamenti e comportamenti che credono debbano destare una certa attenzione. Altre aree del nostro Paese ed altri Paesi europei conoscono bene certi fenomeni, cerchiamo di prevenire certe derive, ha dichiarato il preside. È un appello, un appello sentito, calmo, non è eccessivo, non è che si lancia un allarme di chissà che cosa, ma in realtà però bisogna porre le mani avanti, prevenire, cercare di evitare che poi tutto questo sfoci nella devianza vera e propria. Un articolo di fondopagina sul Corriere Terna avvia lo smontaggio del macchinario ATR3, quello macchinario molto rumoroso che ha creato tanti problemi ai residenti della frazione e da lunedì scorso che è iniziata questa fase di smontaggio dovrebbe terminarsi oggi, la prossima settimana, dovrebbe aggiungere da Ancona il sostituto macchinario, un trasformatore che dovrebbe essere installato appunto nel luogo dove il macchinario precedente è stato prelevato, sarà addirittura così smontato, buttato credo non più riciclato perché è un macchinario di vecchia generazione e crea veramente molti molti problemi a chi si trova nelle vicinanze. Il nuovo arriverà dal porto di Ancona, è una nuova apparecchiatura che abbatterà i rumori e per trasportarla ci sono anche dei provvedimenti che riguardano la chiusura del casello dell'autostrada e alcuni tratti che verranno monitorati dalla polizia autostradale. Altri articoli che riguardano la pagina di Fano, due sottopassi sono stati inaugurati in un'area giochi in Viale Piceno nei pressi del nuovo ipermercato della Copp, ora è più facile l'accesso al mare. Inaugurati ieri alle spalle dell'ipercop, i passaggi pedonali e ciclabili che uniscono due quartieri erano già fruibili nei giorni scorsi ma mercoledì scorso sono stati inaugurati due sottopassi connessi con le opere di urbanizzazione per la realizzazione dell'ipermercato. Pensate quanto quanti problemi viabili di transitabilità hanno dovuto affrontare coloro che risiedono dalla parte e dall'altra della ferrovia, fare dei lunghi giri per raggiungere la nazionale oppure dalla nazionale raggiungere la costa del mare. Adesso con i sottopassi tutto sarà più facile. E qui c'è anche un bel gesto, un bel gesto di un turista che ha trovato un portafoglio con 600 euro, lo affida ai vigili, non ha avuto un momento di esitazione, lo ha restituito al proprietario il quale non si era nemmeno accorto in quel momento di averlo perso. Quindi una festa ancora più sentita, ancora più partecipata. A Urbani abbiamo un caso di burocrazia che insomma rende difficile la vita a tante persone. Le guardie ecologiche formate con tutti i crismi dalla università, la provincia non ci crede e quindi non gli dà il patentino. Hanno frequentato un corso all'università, ma il titolo vale solo per i residenti che sono fuori della nostra provincia. Ma perché? Hanno compiuto gli stessi studi gli uni e gli altri. Agli uni viene riconosciuto il titolo, agli altri no. Insomma abbiamo un caso veramente abnorme di quanto poi le regole non sono efficaci per rendere giustizia a chi ha bisogno della stessa. E anche qui c'è un altro caso simile, dico. Vuole pagare la multa ma c'è un rimpallo di cassa in cassa. Insomma è andato alle poste per pagare una multa, una multa che gli è stata comminata per un eccesso di velocità con uno di quelli infernali macchinini che rilevano appunto la velocità e fotografando la targa. Ebbene è andato per pagare, alla posta gli hanno detto no, qui non si può pagare e bisogna che vada in banca. Allora è andato in banca e la banca gli ha detto no, qui non si può pagare e bisogna che vada alla posta. È tornato alle poste e finalmente gli hanno fatto pagare con tante scuse per il disservizio che gli è stato combinato. Ci prova alle poste e poi in banca alla fine si svela l'arcano. Anche qui c'è un'applicazione rigida e non consapevole delle regole. E veniamo a Cattolica perché a Cattolica dobbiamo riflettere su quanto è venuto. Ha annunciato ieri dai giornali una grande tragedia. Un papà e un figlio che sono stati investiti dal treno nella stazione di Senigallia. Ebbene il figlio ha attraversato i binari, il padre ha cercato di trattenerlo, non c'è riuscito. Ambe i due sono stati investiti. Cercava di afferrare il figlio sui binari. Stefano e Claudio. Stefano il padre, Claudio il figlio. L'abbraccio mancato, intitola oggi il Corriere Adriatico. Il ragazzo soffriva di depressione. Era scappato dopo una lite. Gli era stato proposto un ricovero in una clinica ma lui non ci voleva andare. Un senso di ribellione. Il papà lo aveva inseguito ma entrambi, come ho detto, sono stati falciati dal treno. L'investimento è venuto sui binari. Qui abbiamo le fotografie dei due protagonisti di questa drammatica vicenda. generoso e gentile, legato ai figli e pieno di interessi. Lutto a Valfabbrica dove viveva questo papà, dove si era trasferito il professore Pannacci. Si chiama così Stefano Pannacci. Appassionato di canto, gli amici del coro. Persone così rare non dovrebbero morire, ma nessuno dovrebbe mai morire in questo modo atroce. Il Misa non ha più sbocchi in mare, acqua ferma, detriti e cattivi odori. Il Comune ha scritto al Consorzio di Bonifica intervenite per evitare problemi igienico-sanitari. Sono fenomeni questi che si ripetono un po' in tutte le foci dei torrenti e dei fiumi in questo periodo di siccità. Qualche volta lo vediamo alla foce del Foglio, altre volte alla foce della Zilla, a Fano. Insomma, un problema che è connesso alla scassità di piogge. Ebbè, questa notte almeno un po' di acqua l'ha fatto. Apriamo ora la pagina del Corriere Adriatico sulla regione Marche e parliamo di politica, perché ancora oggi si alternano le notizie che riguardano le candidature alle prossime elezioni del Parlamento. Marche Nord va all'Udc. Fratelli d'Italia molla il collegio al paracadutato De Poli. Per l'uninominale al Senato erano in Lizza Antonio Baldelli e Giorgio Mocchi, entrambi del partito di Fratelli d'Italia, il partito della Meloni. E la decisione di cedere la casella ha creato non pochi malumori. Delusione anche per il commissario dell'Unione di Centro Saccone. Oggi si chiude comunque la partita dei maggioritari. Vediamo un po' quali sono le candidature che si vanno definendo, ormai a buona parte è stata definita. Le sfide nei sei collegi uninominali. A Pesaro abbiamo Giordano Masini, di più Europa, e Mirko Carloni della Lega. A Dancone Antonio Mastro Vincenzo, del PD Carlo Ciccioli o Stefano Benvenuti Gostoli, di Fratelli d'Italia. Macerata Fulvio Esposito, del PD Giorgio Latini o Tullio Patassini, della Lega. A Fermo ed Ascoli, il collegio che unisce queste due province, Meri Marziali, del PD, Francesco Battistoni, di Forza Italia. Per quanto riguarda il Senato, la cosa è più semplice. A Marche Nord abbiamo Marco Bentivogli, del centro-sinistra, e Antonio De Poli, dell'Udc. A Marche Sud, Mirella Gattari, del centro-sinistra, e Lucia Albano, di Fratelli d'Italia. E nel Tetris, dei proporzionali, Leonardo e Marchetti sono in Pol. La coordinatrice di Forza Italia ed il commissario della Lega, capilisti alla Camera. Li vediamo qui entrambi nelle foto che vengono pubblicate. La chiusura delle liste dei candidati per il centro-destra è attesa domani, quindi domani i giochi saranno fatti. Forza Italia intanto punta sulla Vezzali, la campionessa della scherma marchigiana, la Vezzali sarà capolista alla Camera. La discesa in campo dell'asso della scherma taglia fuori il deputato uscente Baldelli. Il proporzionale non è blindato per gli azzurri, che dovranno però giocarsela con i Cinque Stelle. E quindi anche Valentina Vezzali avrà un po' la possibilità di correre per farsi eleggere. Invece, per quanto riguarda Pesaro in modo particolare, il Corriere Adriatico oggi fa il punto sui finanziamenti del PNRR. Per quanto riguarda la rigenerazione urbana, investimenti per la riqualificazione di alcuni edifici, edifici importanti, edifici istituzionali. 8 milioni di euro per i lavori di restauro di Palazzo Mazzolari Mosca. 4 milioni e 400 mila per il risanamento conservativo di Palazzo Almerici, sede del Museo e della Biblioteca Oliveriana. E poi 7 milioni e 600 mila euro per il rifacimento del complesso dell'ex convento di San Domenico. Arrivano i soldi, vale 2 milioni la prima tranche per il Comune, un anticipo che lo Stato dà al Comune di Pesaro per realizzare questi lavori, appunto questi investimenti. E negli investimenti delle mire dell'amministrazione comunale c'è anche la scuola, asili e scuole dell'infanzia, il Pesarese incassa i fondi. Da Montelabate a Gradara i comuni che hanno avuto i piani approvati. E sono diversi i comuni che hanno la possibilità di qualificare le proprie aule scolastiche, in modo particolare per i più piccoli. Hanno 6 milioni di euro per costruire ex novo, ampliare, riqualificare e mettere in sicurezza sette edifici pubblici tra asili, nido e scuole dell'infanzia. Questi soldi andranno a Montelabate, 724 mila e 700 euro per realizzare una nuova struttura dell'infanzia. A Montecoppiolo per un intervento di riconversione. A Sassofeltrio che riceverà 128 mila euro per l'ampliamento di un edificio scolastico. E poi ancora il comune di Coglie al Metauro, Mondolfo, unione dei comuni di Pian del Bruscolo, il comune di Gradara, Belforto e Alisauro, Urbino, Carpegna e altri. Sassò, Corvaro, Auditore e altri. Si tratta della conclusione della prima fase dell'azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del settore dei servizi educativi per i più piccoli, quindi anche aure più confortevoli e adatti alla didattica infantile. E parliamo di tasse. Le tasse sono un argomento principe di questa campagna elettorale, in modo particolare dai partiti di centrodestra. Ebbene, in questo caso si parla di Tari. Tari, la corsa ai fondi è a quota 240. Le famiglie fanno i conti con i rincari. Per le utenze domestiche, gli aumenti già disposti da Arera sono nell'ordine del 4%. Ma il 4%, anche se è una percentuale piccola, in realtà sovrapposta a tutti gli altri aumenti che in questo periodo le famiglie sono costrette a sostenere. Per quanto riguarda le bollette del gas, della luce, di tutte le altre imposizioni, di tutte le altre tariffe dei servizi che sono essenziali per vivere in questo periodo nel nostro territorio, ebbene, anche quel 4% incide e si fa sentire. Tari raddoppiate sotto Ferragosto. Le domande per accedere agli sconti ora sono 240. Insomma, e questo si nota come ci sia una vasta platea di famiglie che si trovano in difficoltà. E veniamo invece al Covid. Il Covid è in ribasso, per fortuna, nel nostro territorio. Ma intanto l'ordine dei medici si fa parallelo alla denuncia di sei professionisti che sono stati segnalati per sospette esenzioni vaccinali. Il presidente Battistini fa il punto dopo i dottori indagati per falso ideologico dalla Procura. Sono medici indagati per aver prodotto certificati di differimento esenzione al vaccino Covid. I casi potrebbero allargarsi, ma anche l'ordine dei medici partecipe a queste denunce. Secondo Battistini i medici devono vaccinarsi tutti. E intanto la siccità colpisce anche un campo da calcio. La squadra non può giocare a osteria nuova. Il campo non può essere innaffiato. Occorre rispettare l'ordinanza. E quindi se non cresce l'erba la partita non si può disputare. Il Prato si è seccato. L'assessore Ferraro rispettiamo l'ordinanza e il Comune cerca un gestore. Chissà quando si potrà giocare nei campi da calcio che sono ormai diventati veramente un deserto. Una superficie arida e screpolata di terra. I contratti integrativi e i premi di produzione rischiano di saltare per l'effetto dei rincari. Le preoccupazioni di Androlini e Ferri della Cisle. Troppe spese per le aziende energivore. Quelle che consumano molta molta energia. A questo punto passiamo al resto del Carlino sulla pagina di Fano. E vediamo anche qui le dichiarazioni del preside del liceo Nolfi, Samuele Giombi, Pincio. L'allarme del preside humus di violenza tra quei giovani. Il professore esterna sui social. La sua preoccupazione. Interveniamo prima che sia tardi atteggiamenti a rischio. Quelli riscontrati appunto da alcuni giovani. Ovviamente non tutti perché il Pincio dopo che è stato qualificato buona parte delle sue frequentazioni equivoche sono state allontanate. Però insomma ancora qualcuno lo frequenta. Ma non è un problema del Pincio perché se poi si spostano da un'altra parte il problema ovviamente rimane. È il problema di cercare di prevenire poi le devianze conclamate. Agire con l'educazione, con uno spirito di collaborazione prima che i giovani poi sfocino in azioni eclatante è importante per il vivere civile. Tire sotto scorta per la fiera di San Bartolomeo. È l'evento principale che si svolgerà da qui alla fine del mese a Fano. Una fiera di tre giorni, una grande chermesse che quest'anno ha subito diverse innovazioni. È in procinto il suo spostamento per il prossimo anno nella zona del Lido. Ma c'è il problema del passaggio dei tire, in modo particolare quelli che forniscono la Copromo, quella grande azienda di lavorazione delle vongole. Questa è la soluzione trovata per consentire il passaggio a Sassonia dei mezzi pesanti che saranno scortati dalla polizia. Però c'è un buco, c'è un buco dall'una di notte fino alle sette del mattino. Ovviamente la polizia in quel momento non è in servizio e lì potrebbero crearsi dei problemi perché i tire sono costretti a percorrere in senso contrario alcuni tratti di strada, in senso vietato alcuni tratti di strada che però hanno l'autorizzazione di percorrere. Bellocchi acclama il sindaco Barbarossa. Il cantante conduttore ha ricevuto la fascia del paese dei Balocchi. Il paese ha acclamato ieri sera il suo nuovo sindaco Luca Barbarossa che ha concesso una lunga intervista per quanto riguarda la sua vita, le sue emozioni, i suoi desideri, i suoi traguardi, le sue delusioni. Ha tutta una platea che lo ha seguito per circa un'ora nel paese dei Balocchi mentre attorno a lui fermeva l'allegria e la fantasia di questa iniziativa bellissima per tutti i bambini che proseguirà poi fino a domenica prossima. Giriamo la pagina e parliamo di manifesti imbrattati. Sono quelli del centrodestra e in modo particolare quelli di Fratelli d'Italia. Una contropropaganda colpi di spray imbrattati i manifesti della Meloni. Nel Mirino i manifesti diversi quartieri della città sono stati imbrattati con la vernice nera. Ebbene il fatto è stato compiuto a Sant'Orso, a San Lazzaro, al Vallato e al Porto. L'ira di Bertoglio che è uno dei rappresentanti dei Fratelli d'Italia è vergognoso, ha detto, risaliremo agli autori con le telecamere sporta denuncia verso ignoti. Si faccia la campagna elettorale sui contenuti e non denigrando l'avversario. E questo è un principio che dovrebbe così regolare tutte le iniziative di carattere elettorale da qualsiasi parte provengano. Legno? No. Oro. Panchine da 7.000 euro a Marotta. Ebbene è un legno pregiato, molto molto pregiato, quello con cui sono state fatte le panchine a Marotta. Diciamo Piazza Roma a Marotta. A Marotta qui sono state posizionate cinque fioriere in acciaio corten, sei dissuasori per separare la parte carrabile da quella pedonale e due cestini per i rifiuti. Ebbene anche due panchine recentemente installate dall'amministrazione comunale. Si tratta di panchine realizzate con un legno molto molto pregiato, un legno esotico proveniente dalle foreste dell'Africa tropicale occidentale, esattamente dal Gabon, insomma da questo paese. è un po' come un legno che costa moltissimo. Qualcuno avrebbe piacere di averlo nel salotto di casa, Marotta l'ha messo nel salotto di Via Roma. Però, insomma, costano 7.000 euro e Bonaccorsi, esponente dell'opposizione, non è certo contento di questa spesa. Sul bus senza biglietto a terra scoppia il parapiglia. Un controllore chiede aiuto agli agenti della polfer perché un extracomunitario era salito sul bus senza biglietto e poi aveva reagito nel momento in cui gli è stato chiesto di esibire il ticket e ha reagito a spintonate e quindi in maniera eclatante e finito in manette. Giriamo ancora la pagina e vediamo un fatto così di burocrazia ad Urbino. Dalla Grecia per l'esame stoppata dal Covid, ne abbiamo parlato prima leggendo il Corriere Adriatico, ma anche il resto del Carlino ne parla diffusamente, aprendo appunto la pagina di Urbino. Un articolo di apertura. L'odissea di una studentessa di farmacia cui è stata negata la prova online. Ad altri è stato permesso. Perché a me no? Ha dichiarato la replica. Nessuna disparità. È la replica della professoressa Berta Martini, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, che ha detto che a nessuno è stata concessa la possibilità di fare la prova online. Quest'anno tutti dovranno essere in presenza. Però insomma un viaggio dalla Grecia a Urbino per sostenere gli esami, prima con due aerei, poi in treno, infine su un taxi, si poteva evitare queste spese al carico di una studentessa che vuole solo un titolo di studio per poter programmare il proprio futuro, ma in realtà la questione più complicata. Invece Borgopace è stata costretta a rinunciare al suo abete. Al suo abete che caratterizzava un po' la piazza centrale del paese. Raffiche fortissime di ieri hanno fatto cadere la pianta a terra. Sono state poi colpite anche diverse auto. Per fortuna nessun ferito. Ieri sera fiaccolata di saluto all'albero. Era un po' un amico di tutti i residenti di Borgopace e anche a Natale, lo vedete qua, era addobbato per fare festa, per dare il segno del calore a tutta la comunità. Con il tronco rimasto, ha dichiarato il sindaco Pier Antoni, faremo delle sedute, ovvero delle panchine, e si chiamerà ancora Piazza del Pino. Torna la festa della tagliata casinina tra barbecue e musica. Da stasera fino a domenica, il via nelle piazze del paese, la kermesse gastronomica a base di carne marchigiana IGP, quindi con una definizione controllata per quanto riguarda la provenienza appunto della carne. Sulla pagina di Pesaro si parla di alberghi, alberghi chiusi. Viene definito il cimitero degli alberghi chiusi. Questa serie è appunto di strutture ricettive che non hanno ospiti in questo momento perché sono chiuse. Fabrizio Oliva, ex presidente dell'ABA, dell'Associazione Albergatori, analizza la situazione che vede ben otto esercizi storici ancora sbarrati. Forse solo due riapriranno. E vediamo quali sono questi esercizi sbarrati. Abbiamo l'hotel Garden, l'hotel International, il Royal, l'hotel Baltic, l'Adria ed infine l'hotel Principe. Sono alberghi che devono essere ristrutturati per poi accogliere i turisti. Ed era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, chiudiamo il giornale, vi dà appuntamento a domani per stasera alle ore 20.30 in occhio alla notizia per le notizie del giorno. Grazie per l'ascolto. A risentirci.